Amici, spoiler 15 aprile, sconforto per Aaron, Malgioglio contro Celentano. Il 13 aprile è stata registrata la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 15 aprile su Canale 5 a partire dalle 21 e 10 circa. Nel corso del prossimo appuntamento, gli allievi dovranno affrontare nuove sfide e prove difficili per poter cercare di andare avanti con il percorso all'interno della scuola. Fino ad ora, sono stati eliminati, Ndg, Megan, Piccolo G, Gianmarco, Samu e Alessio. Durante la prossima puntata, saranno invitati Francesco Sacchella e Clara, direttamente dal cast di Mare Fuori. Ai due artisti sarà consegnato il disco di Platino per Origami all'alba. Nel corso del prossimo appuntamento con amici, gli allievi si dovranno esibire nel corso di tre manche. Al termine delle quali sarà decretato l'eliminato ufficiale. Come ogni serata. I giudici dovranno affrontare una prova divertente per poi scegliere la busta della squadra che inizierà la gara. Per questa occasione, toccherà a Michele Bravi a scegliere la busta contenente il nome della squadra. Sarà quella composta da Zierbi Celentano ad iniziare la gara. Questi sfideranno Cuccarini e Lo. Durante la prima e la terza prova, Isobel vincerà contro Maddalena e Angelina. Decretando così la vittoria della sua squadra. Nella seconda prova, invece, Raymond perderà contro Cricca in duetto. Quest'ultimo finirà al ballottaggio finale. Successivamente, la squadra vincente sceglierà di affrontare nuovamente Emmanuel e Lorella. Tuttavia, questa volta, non riusciranno a vincere. Difatti, Maddalena otterrà due punti consecutivi. Decretando la vittoria della propria squadra ballando contro Aaron e Raymond. Sarà proprio quest'ultimo a finire al ballottaggio finale. Nella terza ed ultima prova, la squadra vincente sfiderà quella composta da Todaro e Arisa. Questi ultimi perderanno. Sarà Angelina a conquistare i due punti che porteranno alla vittoria la sua squadra contro Mattia e Federica. Quest'ultima, invece, finirà al ballottaggio finale. Come ogni sabato, tra i tre eliminati provvisori dalla scuola di amici, verrà scelto un allievo da salvare. Mentre gli altri due dovranno attendere prima di sapere chi lascerà ufficialmente il programma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.